Michele Possa! Wow, 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 amici di Milano! Cisciato! Il Godzilla Luca Franchini! E il Bardo Michele Possa! Vi danno benvenuto al grande spettacolo della WWE Live! WWE Live per Milano, ragazzi! E caro Greg, come dice l'antico proverbio, Franchini e Possa? Cazzate Iosa! Stasera vedrete il più grande show al mondo, l'unico inevitabile spettacolo della WWE! Ma la WWE non è solo live nei palazzetti, ma è anche su Sky Sport! Eh sì ragazzi, perché noi veniamo da Sky Sport, che è la casa della WWE, dove ogni settimana potete vedere Raw, SmackDown, NXT, Main Event ed Experience! Insomma, una vera abbuffata di WWE, il più grande spettacolo del mondo! Vero? Grazie! Vero? Grazie! Ok, sì! I agree! Ok, allora tra poco si parte, ma noi vogliamo... Sì sì, un momento, un momento, ma voi siete pronti o no? Sì! No, 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 no! Siete pronti o no? Sì! Siete pronti o no? Sì! Buon divertimento e buona serata con la WWE dal vivo! Ciao! Siete pronti o no? 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 Siete pronti o no?